Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono PC8 Oggi inizierà una nuova serie che continuerò sul canale con tutte le squadre club europee e cose così Allora, i giovani che hanno da crescere, i super giovani che hanno da crescere, ogni squadra Partito dalla serie A, ossia le big della serie A che sono Milan, Inter, Juve, Lazio, Napoli, vedrò io e Roma E poi andremo tipo Manchester City, Liverpool, così Allora, partiamo dal Milan, dei portieri Importa senza ombra di dubbio l'unico portiere è Gigi Donnarumma Donnarumma ha una clausola di 90, dirò io il valore e quanto potrà arrivare il potenziale E anche il ruolo, vabbè dirò un po' le statistiche importanti Allora, Donnarumma, valore, 90 milioni la clausola Può arrivare a 150 milioni e diventerà sicuramente il portiere più forte del mondo Senza ombra di dubbio Potrà arrivare tranquillamente a 150 milioni Potrà tranquillamente salire di valore tranquillamente E già 90 milioni per un portiere che ha 19 anni è tantissimo Quindi Donnarumma è il portiere Il difensore, l'unico difensore che c'è in questa classifica è Romagnoli Romagnoli è un difensore veramente forte Solo che, purtroppo, gli infortuni lo rovinano un po' come giocatori Ma Romagnoli è veramente un giocatore forte L'abbiamo pagato 35 milioni e diciamo che li vale 35 milioni adesso Penso che ne potrà valere 60-70 milioni quando crescerà E diventerà nella top 5 dei difensori Perché crescendo accanto a Bonucci e Musacchio Che sono dei due difensori esperti Potrà crescere molto A centrocampo troviamo Locatelli che è il regista Che è stato scoperto l'anno scorso Che ha un valore diciamo di 10 milioni Può arrivare a una trentina a 35 milioni Non di più perché non è su questo gran giocatore Però se lo facciamo crescere bene può diventare un ottimo regista Zanellato uguale a Locatelli Uguale allo stesso ragionamento Chessi Chessi ha un valore di 40-45 milioni E secondo me potrà arrivare a 100 milioni il valore di Chessi Perché Chessi è un giovane fortissimo Un cagnaccio in mezzo al campo Quindi per me Chessi è un gran giocatore Poi troviamo Zanellato Zanellato scusate, scusate l'ho già detto Suso Suso è un giocatore già fatto Però può ancora crescere perché ha 23 anni Adesso il valore si aggira intorno ai 40 milioni Potrà arrivare a 80 e a 100 milioni tranquillamente Perché è un giocatore con delle potenzialità incredibili Il terzo, il secondo, se no l'esterno è più forte della serie A Allora, poi troviamo Andre Silva Andre Silva è stato appena acquistato ed è un grandissimo giocatore Ce l'hanno regalato a quella cifra E veramente Andre Silva è un giocatore fenomenale Andre Silva è fortissimo Lo dobbiamo sfruttare Andre Silva è veramente forte Quindi se adesso costa 40 potrà arrivare a 80 Potremmo come dire Il prezzo si duplicherà tra virgolette Sarà per 2 E quindi arriverà a 80 milioni Secondo me Ci potresti fare una grande plus valenza Ma noi non l'abbiamo comprato per rivenderlo Ma l'abbiamo comprato per valorizzarlo Poi troviamo Cutrone Allora, qui devo fare un discorso su Cutrone Cutrone ha giocato contro Lazio L'abbiamo vinto 4 a 1 L'abbiamo vinto L'abbiamo perso 4 a 1 E a quanto pare contro le big Cutrone Non può giocare Quindi bisogna farlo crescere Non è nuova Anche tu lo fai giocare anche contro la Juve Con tutte le parti Bisogna farlo crescere un po' Se però adesso lo valutano 20 milioni Cutrone Varrà 40 Varrà 60 la grande 80 esagerando Perché Cutrone è un giocatore fortissimo Sì, ma Non lo so Può valere 80 milioni Sì, ma non arrivare ai livelli Dei Suarez o dei Lewandowski Quindi Questo video finisce qui Spero che vi sia piaciuto Se così mettete un like Fatevi visual Iscrivetevi E noi ci vediamo alla prossima Ciao